Il rafforzamento del tessuto industriale in termini di competenza è stato uno dei punti centrali affrontati da Giuseppe Cellini di Graphic Masters, confermato alla presidenza della sezione grafica e cartotecnica di Confindustria Umbria per il biennio 2022-2024. L'assemblea ha anche confermato il vicepresidente Leonardo Bambini di Artegraf ed eletto il consiglio direttivo. Noi siamo partiti con delle problematiche nel 2020, nel 2021 il nostro settore grafica commerciale è aumentato di un 10%, quasi 20% considerando l'effetto dei libri, il fatto di poter restare a casa e quindi hanno acquistato più libri. Il settore cartotecnico che è un po' il nostro settore è stato ancora più performante. Nel 2022 siamo ancora in termini migliorativi perché il problema del 2022 è che non si trovano i materiali, è che non si trovano il necessario per poter fare produzione. Un altro problema è quello della ricerca di giovani e anche qui il problema è grande ma stiamo cercando di risolverlo con anche la scuola Gittà di Castello che da tre anni fa anche, diciamo, si occupa anche di grafica e cartotecnica e quindi automaticamente qui stiamo lavorando bene perché comunque stiamo cercando, diciamo, personale. Tracciato un bilancio del bienio passato e analizzate quindi le necessità del comparto grafica e cartotecnica in Umbria, il presidente Cellini ha annunciato alcuni dei progetti e delle iniziative su cui la sezione sta lavorando in particolare in un'ottica di formazione dei giovani. La cosa che vorremmo fare è quella di creare un corso un po' sulla falsariga dell'Istituto Franchetti e Salviani di Stadi Castello e anche a Pierugia perché poi non è solo grafica e cartotecnica ma possiamo anche direttare i nostri ragazzi verso un obiettivo importante. Qual è l'obiettivo importante? È quello che tutti quanti dobbiamo e dobbiamo far capire ai ragazzi che devono lavorare perché è una cosa determinata. Noi dobbiamo far capire che il lavoro nobilita, che il lavoro è importante e che ti dà un futuro. Grazie a tutti.